alla 1 parte Anna Maria Neamtu Antares Nuoto corsia 2 Letizia Facca Gimnasium Pordenone alla 3 Valentina Dell'Anna Gimnasium Pordenone corsia 4 Giorgiana Irina Bari Idros alla 5 Ciada Pizzol noto di nuoto 74 corsia 6 Angelica Bottega noto di nuoto 74 alla 7 Ciada Solmi Idros corsia 8 Alice Cavagni Cogis partita la finale ragazze record è di Angelica capelletto 1 2 e 87 miglior tempo Giorgiana Irina Bari in batteria 1 6 42 è un atleta del 2007 quindi primo anno della categoria ragazze fa davvero tanto differenza è specie così giovani essere nati nel 2006 o 2007 2006 Giada Pizzol in corsia numero 5 che si prende il passaggio e 50 31 e 21 Giorgiana Irina Bari 31 e 33 quindi Ana Mariana e Antu 31 e 55 vediamo quindi come si sviluppa il terzo 25 con Giorgiana Irina Bari che mette la freccia e sorpassa tocca leggermente avanti rispetto a Giada Pizzol quindi spinta la Subacquea per entrare nuovamente in vantaggio attenzione anche a Valentina Tellan che prova ad inserirsi in terza corsia l'atleta del Gimnasium che arriva a doppia velocità e infatti si inserisce davvero super ultima parte di gara gli ultimi 15 metri era nettamente più veloce infatti per tre centesimi vince lei 1 6 e 04 con Giorgiana Irina Bari che scende alla posizione 2 1 6 e 0 7 e Giada Pizzol terza con 1 0 6 e 43 3